Ciao a tutti, benvenuti da Dr. Pike nel nostro centro VeloSystem. Qui davanti a me abbiamo il nostro ciclo simulatore appunto di VeloSystem. Dopo aver preso le misure e salterete su questa bici, regoleremo la vostra misura, la vostra altezza, la vostra lunghezza, le vostre giuste dimensioni della bicicletta, in modo che voi possiate avere il meglio, il miglior comfort, la miglior performance. Vi aspettiamo!